buonasera a tutti ragazzi buonasera questa sera ho il capello un po' storto aspetta ma ottimizzo no ma non le metto qua le metto qua devo fare i tavoli pieni ce la faremo eh vai qui e qua guarda eccoci qua 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 vieni qua qua benissimo prego bravo esatto avete più visibilità perfetto ok bene bene almeno riempita eccoli qua lui lui è solito e non si vuol fare vedere bravo saluta